Troppo cerebrale per capire che si può star bene senza calpestare il cuore Ci si passa sopra almeno due o tre volte i piedi come sulle ruone Vediamo via il tappeto e poi mettiamoci dei pattini per scivolare meglio sopra l'odio Torre di controllo aiuto sto finendo l'aria dentro il serbatoio Grazie a tutti